Qualità, cultura, informazione, digitale, gratis, Feltrinelli. Per dire tutto questo non servono parole, basta una sola lettera. La F. Sul digitale terrestre, il canale premium completamente gratuito. Il canale di chi, da sempre, ha raccontato grandi e piccole storie. Feltrinelli. Il canale dove ciò che conta è fare mille domande e non accontentarsi di una sola risposta. Il canale per partire alla scoperta del mondo e raccontare il nostro tempo. La F. Storie, parole, persone. Un'offerta di informazione, cultura e intrattenimento selezionata e garantita dal gruppo Feltrinelli. Dalle librerie allo schermo di casa, agli eventi sul territorio e alle nuove piazze digitali. Una TV che esce dagli schemi e dagli schermi. E che traduce, nel linguaggio dei nuovi media, la visione di chi, da sempre, fa cultura. Per tutti. La F, la TV di Feltrinelli.